Benvenuti a MeteoGiulianci.it. Dopodomani, mercoledì 12 giugno, tempo bello e soleggiato su tutta l'Italia, perché ormai l'Italia è abbracciata dall'anticiclone dell'Azore, anticiclone area di alta pressione che porta tempo bello e soleggiato e anche temperature sì estive ma gradevole, difficilmente le temperature massime supereranno i 30-31 gradi. Ma vediamo l'immagine del satellite virtuale, vedete un'Italia perfettamente sgombra da nuvole. Bene il tempo che farà allora nella giornata di dopodomani, tanti simboli di sole, sì qualche nuvola residua sulla Calabria con qualche rovescio pomerigliano sulla bassa Calabria, qualche nuvola pomerigliana anche sull'alto Adige con qualche isolato rovescio, ma insomma fenomeni di poca consistenza. Vediamo le temperature massime, temperature massime in deciso aumento, vedete soprattutto al centro nord molti valori di 27-28 gradi. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.